Si intitola Absorta Est Mors in Victoria ed è la mostra appena inaugurata presso il Salone Monumentale della Biblioteca Passerini Landi e aperta fino al 31 gennaio prossimo che raccoglie gli opuscoli di necrologio della Grande Guerra conservati nella collezione Lombardi e presso la stessa Passerini Landi. L'esposizione in 150 unità bibliografiche propone un itinerario dal forte valore rappresentativo e simbolico. Vengono esposti alcuni materiali dedicati ai caduti che non sono le solite cose relative ai monumenti o ai parchi della rimembranza ma sono dei fascicoli, degli opuscoli che venivano dedicati dalle famiglie o dalle scuole o dalle università o dai circoli o dalle ditte ai propri caduti e gli appartenenti ai propri familiari. Per molte famiglie infatti queste pubblicazioni, particolarmente curate nell'aspetto, rappresentavano il momento per ricordare il figlio caduto per il quale non si erano potute celebrare le esequie. Visibili anche due vetrinette dedicate agli opuscoli editi a Piacenza e in onor di caduti piacentini. Alcuni dedicati ai caduti anche abbastanza famosi come il Marchese Casali, c'è una dama samaritana, c'è l'aviatore Nicelli di Lugagnano e poi ci sono diversi opuscoli dedicati dalle scuole, in particolare a Romagnosi e l'istituto tecnico che ha fatto un volume in memoria dei propri caduti. Altre sezioni tematiche, dalle scuole alle università, dalle organizzazioni professionali alle città, sono arricchite con il materiale bibliografico proveniente dalla collezione privata di Filippo Lombardi che in oltre vent'anni di ricerche ha raccolto una straordinaria collezione di questo particolare tipo di pubblicazioni. Grazie.